Il 5G rappresenta sicuramente un momento di forte discontinuità tecnologica, questo porterà l'Eterco a rivedere sia il modello dei servizi sia i modelli operativi e questo creerà un forte cambiamento nell'Eterco. È necessario che l'Eterco adeguino poi quello che è il timing di implementazione delle infrastrutture con il timing di implementazione delle piattaforme che saranno a supporto dei servizi che il 5G consentirà. L'Eterco devono recuperare una dimensione di integrazione perché il 5G porterà la necessità di integrare differenti prelie, differenti componenti tecnologiche, differenti device, il tutto in un ecosistema, in un contesto estremamente articolato. Da questo punto di vista un modo per accelerare la roadmap dei servizi del 5G è ragionare in un'ottica di ecosistema, non implementare in modo individuare certe soluzioni, certe piattaforme, ma rendere aperte, rendere fruibili da tutti i prelie del ecosistema. E qui credo che Accenture possa dare un notevole contributo in quanto la dimensione cross industry e la dimensione cross servizi che Accenture offre ai clienti Eterco possano facilitare l'aduzione di questi servizi.